Non so quando si andrà a delle elezioni, ma prima o poi si andrà e quanto prima noi ci muoviamo su questo meglio è. Quindi non penso che si possa continuare a perdere tempo, né si possa cercare di ipotizzare alleanze che si compongono o scompongono a secondo delle giornate. Noi dobbiamo avere una piattaforma programmatica, cioè condividere le cose che si fanno insieme per essere credibili nei confronti dei nostri elettori. Così si possono costruire delle alleanze e lo possiamo fare in un dibattito aperto e chiaro che va condotto nel Paese. Se noi immaginassimo di aspettare ogni volta il giorno prima della presentazione di una lista per decidere se allearci con questo o quel partito, commetteremo un grosso errore. Dobbiamo aprire un confronto che è fatto di contenuti e anche di scelte di candidati che non siano calati dall'alto ma che siano condivisi dal basso.